La festa odierna ci ricorda il giorno in cui i cristiani riportarono la vittoria contro i turchi nel 1571. San Pio V la istituì sotto il titolo di Santa Maria della Vittoria e due anni dopo Gregorio XIII la confermava, mutando nel nome in quello di festa del Santo Rosario. A ragione questa vittoria venne attribuita alla Santissima Vergine poiché mentre Aleto si combatteva in tutta la cristianità si recitava il Rosario. Erano milioni di fedeli con a capo il Papa che pregavano affinché la scimitarra degli infedeli non giungesse a far strage nelle nostre contrade, come era preciso disegno dei turchi. L'armata cristiana, inferiore di numero, assalì con grande fede ed ardore il nemico e gliflisse una tale sconfitta che abbatté per sempre la potenza turca sul mare. Non ci dilunghiamo sui particolari di quel memorando avvenimento. Vogliamo invece considerarne meglio l'arma vincitrice, ossia il Rosario. Le sue origini sono molto antiche e vanno ricercate nell'uso degli anacoreti dei primi secoli e dei frati laici i quali, non potendo recitare i 150 salmi dell'ufficio, vi supplivano con altrettanti Pater Noster. Verso il secolo XII si incominciò a recitare in tal modo anche l'Ave Maria che ben presto si alternò con il Pater. Più tardi vi si aggiunsero le considerazioni dei misteri e dopo le dieci Ave Maria il Gloria Patri. Così si giunse alla forma attuale. Il merito di aver dato il maggior impulso alla devozione del Rosario è di San Domenico. Si dice che mentre il santo predicava contro gli albigesi gli apparve la Vergine Santissima e consegnandogli una corona gli disse che con quell'arma avrebbe vinto l'errore. Il grande predicatore diffuse la pratica del Rosario tra i fedeli e le sue prediche ottennero quel magnifico risultato che la storia registra. La Santissima Vergine confermò più volte con prodigi la eccellenza del Rosario, specialmente apparendo all'Urds e da Fatima con la corona in mano. Il Rosario è senza dubbio la devozione più facile e più cara. È un intreccio delle preghiere che ogni bambino impara sulle ginocchia della mamma. Il Pater insegnatoci parola per parola da Gesù. L'Ave Maria composta dalle parole con le quali l'Arcangelo Gabriele e Santa Elisabetta salutarono Maria Santissima. Il Gloria, inno di lode e ringraziamento alla Santissima Trinità. Queste soavi preghiere vengono intrecciate con la meditazione dei tratti più notevoli della vita di Gesù e di Maria. Anzi, i misteri sono l'anima del Rosario. Infatti lo scopo di questa santa istituzione è appunto quello di ricordarci quei divini misteri che ogni cristiano deve sempre avere dinanzi agli occhi perché lo incitino alla riconoscenza dei benefici divini e perché possa vedere se la sua vita è conforme ai modelli contemplati. Per ottenere questi frutti dobbiamo recitare il Rosario ad agio con devozione e mentre il labbro ripete l'Ave Maria il pensiero deve meditare i misteri assegnati per ogni decina e trarre da essi i principali insegnamenti pratici. Preghiera. O Dio, il cui unigenito figlio con la sua vita, morte e risurrezione ci meritò la grazia dell'eterna salvezza, fa che mentre noi meditiamo i misteri del Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria ne imitiamo in tal guisa il contenuto che possiamo poi conseguire il premio celeste che essi ci promettono per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.